ciao a tutti amici di esperienza nobile siamo in compagna di sony fdr x100e per una panoramica generale come ho detto nel video per i 20.000 iscritti questa è la mia nuova videocamera vediamo prima confezione qua troviamo una scritta che ci dice che insieme a videocamera possiamo usare gratuitamente un programma interessante come movie studio pratica in 4k per gestire video in 4k io ci ho smalentato una mezz'oretta però non sono ancora riuscito a renderizzare un video in 4k diciamo che dipende da un sacco di fattori comunque ci vuole anche un po di pratica qua abbiamo gli accessori che sono compatibili con questa sony ovviamente gli accessori sony e qua abbiamo qualche caratteristica tecnica allora lenti calzai se vuoi il processore poi abbiamo il formato qua del video in 4k che sarebbe il nuovo xavcs poi abbiamo l'audio 5 canali punto 1 e basta non abbiamo trovato di fotocamera può arrivare fino a 20 megapixel il sensore da un pollice molto luminoso CMOS sensor exmo r insomma non è affatto male in questa fascia diciamo non è comuno a tutte le videocamere e basta andiamo a vedere che faccio la mia confezione io l'ho già aperto quindi ovviamente il contenuto sarà un po disordinato ma non fateci caso ho trovato già la manualistica eccola qua ve la mostro manuali vi dico che se avete già familiarità magari con reflex non sarà un problema utilizzare questa videocamera perché comunque le funzioni sono più o meno i settaggi sono più o meno quelli di una reflex anche qualcuno e meno magari troviamo subito il cavetto mini hdmi per collegare la videocamera direttamente dal televisore o un display comunque ovviamente se avete un display full hdv di 4k avranno downscalati però comunque si riusciranno a vedere poi troviamo l'alimentatore diviso in due vediamo se riesco eccola qua beh questo è uno di particolare un classico alimentatore con la presa eccola qua e poi troviamo un comodissimo paraluce eccola qua che dopo andiamo a montare e poi troviamo un comodissimo paraluce eccola qua che dopo andiamo a montare e vediamo la batteria la batteria che è da 1960 miliampere che vi dico subito consente circa due ore piene di ripresa almeno sul hd 4k un po di meno sicuramente e basta abbiamo anche questa prolunga usb che vabbè può essere diciamo che è utile perché adesso vi mostro perché troviamo la confezione della videocamera allora questa è la videocamera benissimo l'acqua lunghi è comoda perché quando si va a collegare la videocamera computer abbiamo solo questo cavetto che è molto comodo in quanto è integrato nella maniglia però è molto corto quindi loro si forniscono questo questa prolunga così possiamo allungare il cavo quindi confezione diciamo con un po tutti gli accessori che servono andiamo inserire la batteria si mette qua dietro eccoci qua ecco la nostra videocamera ovviamente paraluce si va ad abitare il nostro sito qua davanti se combino allora ok eccola qua questa è con paraluce che non uso a meno che non vada fuori però in casa non è che sia molto utile vediamo un po come è fatta allora faremo una descrizione un po del prodotto mettiamoci magari il tappo intanto faccio vedere che i filtri sono a 62 mm e l'apertura focale va da 2.8 a un massimo di 4 su tutta la lunghezza focale qua non c'è scritto però 2.8.4 diciamo il range dell'apertura focale quindi comunque anche in modo luminosa qua abbiamo lo sportivino che si apre con il display ovviamente allora qua vediamo assolutamente la ghiera con la quale possiamo o zoomare o fare il focus manuale ovviamente dobbiamo selezionare quale funzione gestire con questo selettore poi abbiamo qua apriamo la videocamera così vi mostro meglio come in basso abbiamo tutti dei comandi manuali quindi la velocità di scatto e gli iso questa videocamera può andare fino a iso veramente molto molto elevati superiori sicuramente alle concorrenti in questa fascia e qua abbiamo l'apertura focale praticamente e si gestiscono con questa rotellina che c'è qua vedete quindi si seleziona iso poi per esempio iso o veloce riscatto comunque si fa aumentare o diminuire perfetto poi qua in basso abbiamo degli sportellini vedete per l'ingresso mini hdmi che dicevamo prima e qua l'ingresso per le cuffie poi vabbè tasti accensione qua il tasto display per spegnere il bilanciamento del bianco molto molto comodo che non tutte le videocamere hanno ovviamente quelle di fascia più bassa non c'erano night shot che è ovviamente una cosa molto interessante vi farò vedere dopo e programmi vabbè qua potete impostare dei programmi e far memorizzare delle funzioni della videocamera poi qua in alto abbiamo i vari microfoni vedete uno poi ce n'è anche qua sotto ce ne sono altri due qua abbiamo la slitta eccoci qua come al solito purtroppo la slitta proprietaria di indy sony quindi per collegarci un microfono esterno come quello che uso io per esempio della nikon che non è di sony bisognava comprare un adattatore diciamo sulla ventina di euro non è un problema però non capisco mi dà fastidio questa scelta di di sony di fare una slitta proprietaria comunque vabbè non è un problema qua abbiamo il diciamo il pianciere per lo zoom eccoci qua e qua il tasto a doppia corsa per scattare le foto qua possiamo appunto scegliere foto video e qua abbiamo il tasto per far partire la registrazione qua in basso abbiamo l'ingresso per caricare la nostra videocamera benissimo questo è più o meno come come la videocamera in soldoni proprio clicchiamo il tappo allora il display touch è un 3 pollici e mezzo dovrebbe essere qua possiamo decidere la qualità dell'immagine vedrete adesso siamo in 4k però possiamo dare il formato file vediamo full hd eccoci qua ok adesso tornandoci sopra possiamo decidere se fare a 50p o 25p poi anche la dimensione dell'immagine insomma se queste funzioni sono tranquillamente settabili possiamo decidere un sacco di cose anche sul bilanciamento del bianco esposizione fuoco spot vedete abbiamo un sacco di funzioni ovviamente visto che comunque è una videocamera di livello pro-sumer quindi ormai non si parla più di videocamera entry level ovviamente siamo comunque lontani da una videocamera professionale però si può dire una semi professionale secondo me modo di presa poi abbiamo delle funzioni di modifica delle immagini in loco ovviamente non si possono fare grandi cose eccetera abbiamo anche ovviamente la possibilità di formattare eccetera eccetera di settare da tre ora confuso orario e quant'altro bene cosa dire le dimensioni sono molto generose come vedete anche il peso si fa sentire siamo quasi sul chilo e in mano da una bella sensazione perché comunque si sente di avere in mano un oggetto appunto come dicevo quasi professionale quindi sicuramente una videocamera di alto livello però mi aspettavo qualcosa di quando l'ho presa mi aspettavo qualcosa di più piccola però dai adesso è arrivata grandina e comunque mi trovo bene ovviamente devo cambiare a capo a tre piede perché quello che ero è molto piccolo e quindi non non tiene sul peso oppure comunque si sbilancia parecchio ed è molto instabile bene cos'è dato io lo ripeto abbiamo del comandino per comandare a distanza la videocamera anche quello molto interessante e qua non vi ho fatto vedere ma abbiamo l'ingresso per la sd è consigliato soprattutto per i 4k sd almeno di classica almeno da 45 mega al secondo io ho messo una 64 giga e devo dire che non c'è nessun tipo di problema di lettura quindi consiglio almeno una 32 minimo a a salire anche perché i video in 4k pesano veramente parecchio altra cosa molto interessante ho adesso spento la videocamera si può utilizzare anche il visore eccoci qua ovviamente bisogna spegnere il chiudere il display e vediamo se riesco a farvi vedere eccoci qua adesso abbiamo il visore con tutte delle informazioni vedete come su una reflex per intenderci quindi abbiamo anche il sessore di prossimità che capisce da solo quando siamo vicini al al visore qua abbiamo ancora la possibilità di decidere automatico manuale ovviamente e dei filtri osti ma sta usando dei filtri molto interessanti per ridurre la luminosità veramente anche questa funzione che tante videocamere non hanno quindi cosa dire una videocamera che nel complesso come primo impatto mi piace veramente molto adesso il video dal wiko getaway in poi li farò con questa quindi di tempo vostre impressioni ovviamente su youtube sono complessi quindi non potete gustarvi la qualità video appieno però comunque secondo me si notano delle cose come la profondità di campo per esempio quando avvicino molto telefono fateci caso vedrete come lo sfondo sarà molto più per esempio se adesso avvicino questa videocamera eccoci qua alla videocamera che sto usando che la sony hdr cx 410 vedete che il telecomando rimane comunque abbastanza a fuoco se io avvicinassi per dire questa videocamera un altro oggetto a questa videocamera in questo modo vi assicuro questo telecomandino qua sarebbe veramente sfocato tantissimo non si riuscirebbe anche a distinguere i tasti per esempio quindi sono tutte piccole cose che comunque migliorano sicuramente la qualità del video allora se avete domande particolari fatemene pure ripeto non penso di fare una recensione più avanti anche perché comunque devo vendere questa videocamera non è che ne abbia altre per fare un video su questa videocamera però ripeto con il passare del tempo sicuramente riuscirò ad usarla meglio e sicuramente sempre sempre di più quindi se avete domande particolari fateme che sapete che cerco sempre di rispondere quindi per questo per questa video panoramica è tutto ci vediamo nei prossimi video un saluto da Lorenzo per l'esperienza mobile ciao ecco mi avevo dimenticato anche di mostrarvi la funzione night shot che vi dicevo prima fatemelo dire è veramente una figata adesso siamo al buio completo io vi assicuro che non vedo nulla per dire il telecomandino a occhio non lo vedo ma neanche lontanamento non sapere neanche dove andare a prenderlo e la videocamera senza fare nessun tipo di luce vi assicuro che fondamentalmente non ha nessuna luce attiva riesce a vedere tutto al buio quindi è una sorta di sensore infrarossi veramente efficace funziona molto molto bene come vedete quindi funziona anche qua veramente molto molto interessante si può dire anche comoda perché comunque ci permette di girare dei video horror, dei film horror oppure comunque di vedere al buio completo quello che non riusciamo a vedere occhio nudo